Musica Benvenuti, domani è venerdì 9 marzo, ecco le previsioni del tempo. Aria fresca da nord-est, venti forti da est al centro nord e sulla Sardegna. 10-12 gradi sul settentrione, 15 gradi in Sicilia. Precipitazioni su Marche, Abruzzo, Molise e Gargano al mattino con neve a 600 metri. Altre piogge sulla Puglia. Peggiora nel pomeriggio sulla Sardegna a partire da Carboni e Glesias. E sulla Sicilia con maltempo dalla sera verso Calabria. E forte piogge sulla notte ancora invece sull'isola. Nella notte venti ovunque da nord-est e fortissimi sul Ragusano. Sulla Campania soffieranno moderati venti di grecale che spingeranno masse di aria umida sui monti dell'entroterra dove si svilupperanno estese addensamenti nuvolosi. In prossimità delle coste e sulle pianure l'aria sarà più secca e favorirà schiarite su molte zone. Sui monti dell'entroterra il cielo sarà irregolarmente nuvoloso o nuvoloso per nubi che causeranno qualche precipitazione nevosa in montagna. Sulle pianure ed in prossimità delle coste il cielo sarà parzialmente nuvoloso con schiarite. Temperature in lieve diminuzione, venti moderati da est e nord-est. Grazie. Grazie.